Ed ora ci spostiamo ad Adria, dove il comune ha già avviato il percorso per l'installazione di due nuovi autovelox, proprio per rendere più sicure le strade del territorio. Vediamo. Il comune di Adria è pronto ad installare dei nuovi velox per rendere più sicure le strade del territorio. Gli autovelox fissi con velobox saranno due. Il primo comparirà lungo la strada regionale piovese, ovvero quella che conduce a Cavarzere. L'installazione arriva dopo anni di vicende burocratiche che, a seguito anche di un ricorso al TAR, sono state definitivamente risolte. Mentre il secondo verrà posizionato lungo la strada che porta alle località balneari del Polesina. Sono due velox. Uno si trova sulla regionale piovese in direzione a Adria Cavarzere, che in realtà ha una storia un po' antica, nel senso che lì sono successi purtroppo gravi incidenti, anche alcuni mortali. Da lì è nata una petizione che è stata data alle scorse amministrazioni. Insomma è iniziato tutto un inter. Quindi lì noi arriviamo a completare un inter che è partito anni or sono. E invece l'altro velox andrà sulla strada del mare, che va verso l'Oreo e Rosolina, e va a completare la sicurezza su una parte dove ci sono anche degli incroci un po' pericolosi di innesto. Anche qui la velocità deve essere quella che è del codice della strada, in particolar modo. Per cui esiste già un velox da decenni che punta in una direzione, noi andremo verso il mare, andremo a completare la direzione verso la città. Autovelox che arrivano proprio come deterrente alla velocità di tutti gli automobilisti che ogni giorno sfrecciano su queste strade, anche a fronte dei numerosi incidenti mortali che negli anni si sono verificati. Noi cercheremo sicuramente di segnalarlo in maniera veramente opportuna, in maniera tale che uno non possa dire non l'avevo visto, non sapevo che c'era, e proprio per dare un segnale di prevenzione e non di riscossione.